Un anno di grande bellezza. Un anno fa, il 2 marzo 2014, tardasera sulla East Coast nel cuore della notte in Italia, gli appassionati di cinema erano incollati davanti al televisore. L'attesa era tanta per la nomination all'Oscar come miglior film straniero della grande bellezza di Paolo Sorrentino. Dopo il Golden Globe la strada era spianata, eppure quando Ewan McGregor e Viola Davis si sono avvicinati al microfono per l'annuncio di rito, un brivido di incertezza ha percorso la schiena di tutti. I tanti Oscar vinti da attori, attrici e registi italiani ci avevano abituati a deliziosi siparietti che per un istante interrompevano il cerimoniale. Indimenticabile la premiazione del 1999 con donna Sofia Loren che si sbracciava euforica agitando la busta in cui aveva appena letto il nome dell'amico Benigni. Dopo un impeccabile And the Oscar goes to... la lingua dei festeggiamenti tornava all'italiano, con un reboante Roberto! Oggi i ritmi incalzanti della diretta televisiva rendono tutto molto più rapido e concitato, ma non per questo meno efficace. Anche Sorrentino, accompagnato da Tony Servillo, il miglioratore italiano sulla piazza e dal produttore Nicola Giuliano ha lasciato il segno, ringraziando la famiglia al completo e omaggiando le sue quattro fonti di ispirazione, Federico Fellini, i Talking Heads, rock band americana cara al regista, Martin Scorsese e Diego Armando Maradona, ex goleador del Napoli, città natale di Sorrentino. Dopo un anno, la grande bellezza si conferma capolavoro assoluto, concepito da mente raffinatissima, la sceneggiatura che trasuda citazioni letterarie alla sua perfetta corrispondenza in un set che è un museo a cielo aperto. Roma, oziosamente vissuta e quasi subita dai personaggi. Una Roma metafisica, tuttavia, degna dei quadri di De Chirico, senza traffico, senza rumori, con tanti fenicotteri e una giraffa. Sorrentino ha portato al suo massimo il lungo sudalizio conservillo, nel film uno scrittore ormai arido di ispirazione, Jeff Gambardella, che riesce a scoprire se stesso solo ricercando il tempo perduto, i luoghi della giovinezza cui alla fine, guidato da una madre Teresa di Colle Celio, approda via mare. Rivive in lui il mito decadente di Andrea Sperelli, l'esteta del piacere, rivisitato in salsa frustiana. Uno dei suoi motti, appresi dal padre, era avere non aberi, cioè avere, prendere, possedere e non essere preso, che Jeff applica al suo vanesio mondo di parti e trenini. Io non volevo solo partecipare alle feste, volevo avere il potere di farle fallire. La tiepida accoglienza ricevuta, almeno inizialmente, in Italia, è stata in seguito compensata dalla vittoria di ben nove David di Donatello, un trionfo per un film che rimarrà nella storia del cinema accanto ai capolavori di Fellini. La grande bellezza, però, è qualcosa di diverso, perché investiga le sfaccettature più profonde dell'animo, l'apparato umano di Jeff, con un respiro universale, non limitandosi alla borghesia italiana contemporanea. Il primo anniversario dell'Oscar è l'occasione per rivedere questo film. Lo consigliamo anche a Capitan Schettino. Guidato da Gambardella, potrà tornare a meditare sul naufragio della costa Concordia, ora a Genova, ma al tempo delle riprese adagiate a largo dell'isola del Giglio, come un gigante addormentato. Pardon, come il frutto di una manovra maldestra. Buona visione!